Si preannuncia un sabato sera di tensioni e disagi per i residenti di Borgo Ticino e la zona sud di Pavia. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi nel pomeriggio di giovedì in prefettura, ha infatti dato il via libera alla commemorazione di Emanuele Zilli, il militante del Movimento Sociale Italiano, morto a Pavia il 5 novembre del 1973 in circostanze misteriose. E in tutto il borgo sono già comparsi i cartelli con le indicazioni sulla viabilità per la giornata di sabato. Vi sarà il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14 alle 22 in numerose vie, nel tratto compreso tra Piazzale Ghinaglia e Via dei Mille fino all'intersezione con Via Pasino. Medesimi divieti riguarderanno anche Lungo Ticino con i disagi al traffico che si possono immaginare. Il ponte coperto sarà infine chiuso al traffico già a partire dalle 17. Tra l'altro è stato anticipato come orario ed essendo anche sabato è un grosso problema, un grosso problema perché la strada come vedete era ristretta da un cantiere, allora mi sono permesso di disturbare, di segnalarlo a sua eccellenza il prefetto, a sindaco e a questore. Devo dire che ieri ci siamo trovati subito qui per valutare l'area e è stata ritenuta sufficientemente ampia per contenere un numero ancora credo imprecisato di persone. Proprio Roberto Rizzardi nelle scorse ore aveva chiesto alle autorità competenti di spostare la commemorazione di Zilli nel parcheggio dell'area VUL per non bloccare completamente un intero quartiere. Io pensavo, ho fatto una proposta, per una volta si poteva anche spostare la manifestazione a 50 metri più avanti sul VUL. Ricordo che il Zilli, poveretto, aveva avuto un incidente stradale, ormai ha chiarito dall'indagine eccetera, quindi era venuto proprio sull'argine, quindi non cambiava nulla fare la celebrazione lì. Contestualmente al presidio in borgo della destra, gli antifascisti sfileranno invece per le vie del centro. L'obiettivo delle forze dell'ordine è di evitare il contatto tra le parti.